Un momento stupendo, questo è un momento stupendo per chi ama il giardino, è tutto germogliato, cominciano le gemme sugli alberi, cominciano i simini che abbiamo piantato nel semenzaio a uscire fuori in tutta la loro potenza, è sempre un'emozione grande vedere la natura che si risveglia, con quanta forza si risveglia. Adesso ci trasferiamo in Sardegna, la Sardegna è una terra aspre, una terra con dal clima forte, però andiamo in un piccolo comune a due passi da Cagliari, si chiama Sinna e andiamo a scoprire un giardino segreto, un giardino di una grande appassionata, lei si chiama Tiziana, ha un blog molto bello in cui parla di giardinaggio e lei pensate è un fazzoletto di terra, al minimo riesce a coltivare le piante stupende e le sceglie perché le piacciono. E le prende, prende un simino qua, una pianta prende da un'altra parte, magari sul gretto di un fiume.